Non è che ti sei esagerato allo scrittore, no, no. Può essere, lo posso anche dire. Sì, però se tu mi fai... Daniela, se mi fai vuoti funziona. Però la prossima volta faccio i vuoti. È certo, è certo. No, perché visto così non lo posso vedere. No, ma questo è, adesso perché io ho messo quello come barriera, tanto per avere un'idea del colore, se poteva andare con i marmi che avevo. Poi ho cominciato a fare anche un'amorazione. Io poi lavoro un po' così, mi sento in quel momento lavoro. Un accenno a questi vuoti lo devi fare. Faccio un accenno così vediamo se lo devo vedere. Un accenno abbastanza... Perché vedo adesso non ci ho provato a fare un'amorazione. Perché è complicato. No, anche perché poi c'è questo, la frutta. E questa non c'è questa, questa è la frutta. E c'è un sacco di luci. E quindi se viene così anche... Così? L'ho fatta che arriva qui. C'è soltanto questa prima parte, non c'è la seconda. No, ma non c'è porta a niente. C'è, capito? Allora l'importante è che ci siano questi vuoti che se no è una parete. No, ma quello è sempre... L'ho fatta quando non avevo altri... Gli altri ma... Ok, può andare madame. Grazie. Grazie.